Condannati altri odiatori social, Ricci devolve risarcimento in opere sociali. Il centrodestra pesarese lancia una nuova campagna d'ascolto alla città. Incidenti mortali in A14, Acquaroli chiede lo stop dei cantieri. Le Marche e i suoi chef stellati nella vetrina della BIT di Milano. Sport, la VL batte Reggio e si conferma al quarto posto. Ben ritrovati al nostro Rossini News di oggi. Oggi lunedì 6 febbraio apriamo questa prima edizione del nostro telegiornale con una notizia che arriva dal Tribunale di Pesaro dove oggi è stata emessa la seconda sentenza di condanna a cittadini pesaresi che avevano diffamato su Facebook il sindaco Matteo Ricci. Sindaco che devolverà il risarcimento ottenuto per iniziative a sostegno delle fasce deboli della città. Vediamo il servizio. Il Tribunale di Pesaro ha emesso questa mattina una seconda sentenza di condanna di diffamazione a mezzo social nei confronti di un secondo hater del sindaco Matteo Ricci finito alla sbarra. Dopo la sentenza di dicembre che condannò un 57enne pesarese a 800 euro di multa e un risarcimento di 3.000 euro, oggi il giudice monocratico Andrea Piersantelli ha condannato come colpevole di diffamazione un altro 51enne pesarese, SM le sue iniziali, a 1.000 euro di multa, 7.500 euro di costituzione in parte civile e 1.900 euro di spese processuali. Nel sindaco e nell'imputato erano presenti in aula rappresentati dall'ufficio legale del comune e dall'avvocato difensore Andrea Bianchi. Gli insulti Facebook in questione riguardano la primavera del 2020 in piena pandemia. Ricci, ascoltato in tribunale nella precedente udienza, ricordò come all'epoca tentò di bloccare i messaggi degli haters, così come ricordò di aver trovato lettere minatorie nella cassetta delle lettere. Precedente udienza il cui il pubblico ministero aveva chiesto 4.000 euro di condanna e il comune 30.000 euro di risarcimento come parte civile. Attraverso una nota stampa di oggi Ricci ha comunicato che i 7.500 euro di risarcimento saranno destinati a coloro che ne hanno più bisogno. La scorsa volta scelse di metterle a disposizione delle persone con disabilità, questa volta chiederà la Giunta di devolvere le risorse per aiutare le famiglie pesaresi in difficoltà nel pagamento dell'affitto. All'uscita della sentenza odierna, l'avvocato difensore dell'imputato ha lasciato trapelare l'intenzione di ricorrere in appello per un difetto di procedibilità e per incongruenze nella identificabilità di collegare profili in questione alle azioni dell'imputato. Il sindaco Matteo Ricci è stato indirettamente oggetto anche della conferenza stampa con cui il centrodestra pesarese in consiglio comunale ha lanciato la sua nuova campagna d'ascolto alla città. In occasione di una conferenza stampa tenutasi lo scorso fine settimana, i gruppi consigliari di centrodestra di Pesaro hanno espresso la necessità di un cambiamento all'interno dell'amministrazione e un primo cittadino più presente e attento ai reali problemi del territorio. Non sono mancate le critiche per quanto riguarda il ripristino di opere pesaresi ormai da tempo in disuso e per questo la paura di arrivare ad un 2024 impreparati. Allo stesso modo non si è fatta nessuna preclusione al prossimo candidato sindaco di centrodestra che potrebbe arrivare sia dall'interno sia dall'esterno del mondo partitico. Noi riteniamo che questa città sia vittima della propaganda che è stata fatta in questi anni che non corrisponde alla realtà della situazione attuale. Abbiamo una città piena di incompiute o chiamiamole mai partite o ferma al palo come nel caso delle opere infrastrutturali dell'autostrada nelle quali siamo in forte ritardo. in una città nella quale non siamo riusciti a portare in tanti in otto anni a compimento i lavori del palazzetto dello sport dove l'ex tribunale è fermo o dove sono stati fatti degli sprechi per dei progetti che non corrispondono all'esigenza di quella che è la realtà come nel caso dei 150 mila euro spesi per la progettazione della Rambla. Una città dove c'è un forte degrado in come emerge anche proprio le problemiche di queste settimane nel suo centro storico che forse è vittima della decrescita felice che è stata imposta da un'aggiunta PD 5 Stelle. Quindi una città che ha bisogno di dare una svolta, un cambio di passo vero a tutto quello che rappresenta un nodo per creare le condizioni di sviluppo socio-economico di un intero territorio. Oggi siamo qua nella sala del Consiglio Comunale di Pesaro tutti insieme, sono rappresentati tutti i partiti della coalizione di governo che attualmente governa la nazione, ci sono i gruppi consigliari, ci sono tanti esponenti del mondo civico, ci sono rappresentanti del mondo dei quartieri perché ormai dall'inizio della legislatura riusciamo anche ad essere presenti sui quartieri con i nostri consiglieri di quartiere e siamo qua con lo scopo di lanciare un messaggio. Oggi finalmente siamo in grado di raccontare quello che stiamo facendo già da qualche anno e cioè iniziamo a dirlo, facciamo una campagna di ascolto, iniziamo a parlare con le persone per cercare di raccogliere le migliori proposte possibili per trasformare queste proposte in una proposta di governo. Noi vogliamo essere pronti nel 2024, essere credibili, esserci e riuscire a rappresentare quante più persone possibili. Quindi oggi il messaggio è una grande coalizione, perché siamo davvero tanti, pronti a diventare ancora di più, pronti ad aprirsi a nuovi contenitori della collettività sociale che siano in grado di fare proposte e soprattutto pronti ad ascoltare. Ecco, questo è quello che ci immaginiamo come cammino dei prossimi mesi in vista delle prossime amministrative. Questo modello amministrativo autoreferenziale ha illuso e deluso. Come centrodestra ci sentiamo la responsabilità di lanciare una proposta. Vogliamo che questa proposta parta da subito con uno sguardo ampio. Quindi noi ci rivolgiamo alla città e lanciamo una campagna di ascolto, che non è un prendere appunti delle problematiche, ma è un vero e proprio coinvolgimento, un vero e proprio confronto e una vera e propria coprogettazione. In questo momento intensificheremo questo lavoro, che abbiamo già fatto come singoli, come partiti. Lo vogliamo fare come squadra di centrodestra, lo vogliamo fare raccontandolo e rendendolo capillare e sempre più efficace ed E ora cambiamo argomento. Due gravi incidenti mortali nel giro di appena 20 giorni. Una A14 marchigiana soffocata dai cantieri che si protraggono da anni e per i quali il governatore Francesco Acquaroli chiede ora interventi drastici. Voglio ribadire alcuni concetti a mio avviso fondamentali. Il primo concetto è che la situazione attuale è figlia della volontà di non realizzare la terza corsia, che purtroppo tanti anni fa nella nostra regione ha visto alcune amministrazioni addirittura opporsi alla realizzazione di una infrastruttura, all'ampliamento di una infrastruttura che avrebbe messo in condizioni i viaggiatori, gli automobilisti, gli autotrasportatori di viaggiare in maggiore sicurezza. Purtroppo a quell'epoca, in quel momento, si era ritenuto quella scelta di ampliamento dell'autostrada A14 una scelta sbagliata e si è persa un'opportunità. Oggi siamo davanti invece da ormai cinque anni alle esigenze di società autostrade di adeguare alle normative vicenti sia i viadotti che le gallerie. Una serie di cantieri interminabili che ci condizionano, ci penalizzano, ci soffocano e soffocano le nostre comunità da ormai troppi anni e che, oltre a soffocare l'economia e condizionare ogni giorno la quotidianità di chi in quel tratto deve viaggiare, rendono quel tratto particolarmente pericoloso. Noi in questi due anni abbiamo interlocuito, abbiamo ottenuto dei risultati. Innanzitutto la sospensione dei cantieri nel periodo estivo, da giugno a settembre, abbiamo ottenuto la sospensione dei cantieri nei ponti per le festività che vedevano addensarsi file lunghissimi e creare condizioni particolarmente pericolose per i viaggiatori in quel tratto di autostrada. Però certamente i lavori di autostrade e di Aspi dovevano proseguire per la messa in sicurezza e per il rispetto delle normative. Oggi siamo arrivati ad un punto insostenibile, insopportabile. Chiederemo ad Aspi di interrompere i cantieri fino a quando non siano in consono in condizioni di restituire cantieri in sicurezza. Cantieri che possano essere in grado di evitare continui incidenti e condizioni accettabili per il transito degli automobilisti e degli autotrasportatori. E certo è che in questi due anni abbiamo fatto anche tanto altro. Abbiamo cercato di convincere tutte le amministrazioni del territorio sulla necessità di accettare la terza corsia. Di accettare la terza corsia nel più breve tempo possibile. Proprio l'estate scorsa tutte le amministrazioni hanno dato mandato alla regione di dialogare con Società Autostrade per ottenere quanto prima un progetto delle ipotesi per la realizzazione della terza corsia. A ottobre abbiamo fatto proprio un incontro con Società Autostrade e Società Autostrade, pensate voi, proprio martedì scorso ci ha presentato in via informale le ipotesi da dare alle amministrazioni locali. Quando eravamo arrivati ad una condizione molto avanzata di ipotesi da presentare alle amministrazioni locali per individuare la soluzione finale su cui poi chiedere al Ministero di poter procedere per la realizzazione della terza corsia ci troviamo oggi davanti ad un'ennesima tragedia che per noi diventa insostenibile. Intorno alle 18 di ieri il soccorso alpino speleologico delle Marche e i vigili del fuoco sono intervenuti sul monte Petrano dove due escursionisti ventenni si sono smarriti sul sentiero delle Ammonniti. Il calare del buio ha fatto perdere l'orientamento al ragazzo e la ragazza provenienti da Ostravettere che grazie ad un sistema di rilevazione GPS legato agli smartphone sono stati ritrovati alle 20.45 sul ciglio di un impervio canalone senza alcun tipo di illuminazione. Un'altra notizia di cronaca arriva invece da Pesaro dove ieri è stato sventato un tentativo di furto alla palestra Athletic Club di Via Respighi a Pesaro quando all'alba un uomo ha fatto scattare l'allarme installato dall'azienda Vigilar all'ingresso del locale. Un'incursione senza bottino perché il ladro spaventato dalle sirene dell'allarme è fuggito all'istante. Gli operatori della Vigilar verificando le immagini in tempo reale hanno allertato la polizia che è intervenuta in pochi minuti. Immagini che saranno ora esaminate per individuare il responsabile del tentato furto. Ed ora cambiamo argomento. La Regione Marche infatti scalda i motori in vista della nuova edizione della BIT di Milano. Da lunedì prossimo nella più grande vetrina nazionale dedicata al turismo la Regione avrà i suoi chef stellati come testimoni al decezione. La Regione Marche scalda i motori in vista della BIT. Oggi nel parlamentino di Ancona sono stati illustrati formula dello stand e della proposta che le Marche porteranno alla Borsa Internazionale del Turismo che si terrà alla Fiera Milano City dal 12 al 14 febbraio. Obiettivi illustrati da Marco Bruschini, direttore dell'ATIM, ovvero la neonata agenzia regionale per il turismo e la internazionalizzazione. Cercheremo di dare un'immagine che sia coordinata con le grandi potenzialità turistiche e il grande protagonismo che devono avere le Marche in questo settore. Sarà uno stand completamente nuovo, uno stand che avrà due punti focali. Una parte dove c'è un soppalco, in questo soppalco faremo le degustazioni fatte dagli chef stellati. Sotto ci sarà un'area espositiva che poi sveleremo che cosa metteremo. Poi dalla parte opposta avremo l'area talk. La cosa molto bella dell'area talk è questo grandissimo video che viene messo dietro, 5 metri e mezzo per 3, quindi avremo 16,5 metri quadri, dove potremmo proiettare tutti quanti i filmati promozionali delle Marche per far sì che tutto quello che c'è a livello di eccellenza possa essere visto da tutti quanti i visitatori della BIT. Alla conferenza di oggi hanno partecipato anche gli chef stellati marchigiani con una stella Michelin che saranno partner dell'iniziativa di lunedì 13 febbraio nello spazio dello stand a loro dedicato, chiamato Firmamento Stellato. Saranno impegnati in uno show cooking in collaborazione con gli studenti degli istituti alberghieri delle Marche. Chef che oggi hanno rimarcato l'impegno della regione a dare risalto a questo settore strategico con un fine ben chiaro, valorizzare non solo in Italia ma soprattutto all'estero i prodotti eccellenti e la qualità del territorio. Chef che hanno anche presentato i piatti che proporranno alla BIT in un connubio tra tradizione e innovazione. È un programma intenso dove si coinvolgono i territori, le eccellenze, i distretti per presentarci ai mercati turistici internazionali cercando di accrescere la programmazione e dall'altra parte anche la promozione del nostro territorio. È rappresentato l'obiettivo da rafforzare la presenza degli stranieri e degli italiani, di tutti coloro che possono apprezzare le nostre bellezze, le nostre eccellenze, il lusso ma anche il paesaggio, l'anogastronomia e tutte le altre opportunità che nella regione si possono vivere. Turismo straniero che avrà dei target di nazionalità ben precisi. Sicuramente Germania, Austria e Svizzera ma soprattutto stiamo legando molto i flussi turistici che verranno nelle marche ai voli perché il prodotto c'è. Avremo anche una buona promozione e quindi ci andremo a presentare nei mercati internazionali ma se non abbiamo i voli non abbiamo le gambe della promozione. Quindi questa grande attività insieme all'aeroporto e al porto ha portato già il nuovo volo su Parigi. stiamo studiando dei voli sulla Germania e stiamo studiando anche una forte espansione anche del porto. Quindi tutto questo farà sì che il nostro obiettivo principale sarà quello di passare dal 20% che vengono dal resto del mondo quindi fatto 100-80% turisti vengono dal territorio nazionale e 20% dal resto del mondo riuscire ad arrivare almeno al 40% perché le marche hanno tutte le caratteristiche per potersi imporre nei mercati internazionali. Il cantiere navale di Fano Silent Yacht ha varato per la prima volta in Italia un catamarano elettrico solare. Si tratta di uno yacht della serie Silent 60 dotato di 42 pannelli solari che alimentano due motori elettrici che consentiranno navigazione in crociera in ogni condizione comprese baie dal basso fondale grazie al ridotto pescaggio dello scafo. Grazie alla sola energia solare il catamarano sarà in grado di navigare in modo efficiente e a emissioni zero fino a 100 miglia nautiche al giorno. A Pesaro parte un intervento da 92.000 euro per la riqualificazione esterna di Casa Rossini. Il Comune, attraverso gli assessori Pozzi e Vimini ha annunciato che entro due mesi verrà completato il restauro della facciata, il recupero degli infissi e il consolidamento di lapidi e balconcino. Un intervento reso possibile grazie al sostanzioso contributo di 60.000 euro da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro. La torre di Palazzo Mamiani di Sant'Angelo in Lizzo la verrà dibita a luogo formativo per l'arte grazie ad un accordo di collaborazione tra il Comune di Vallefoglia e l'Accademia di Belle Arti di Urbino. Con l'accordo l'Accademia si impegna a proporre e organizzare eventi, mostre e seminari artistici realizzati in accordo con il Comune che a sua volta si impegnerà a concedere gratuitamente i locali garantendone l'apertura e il coordinamento organizzativo grazie all'Associazione Etra. E una comunicazione di servizio che vi ricordiamo è quella relativa a mercoledì 8 febbraio. Marche Multiservizi infatti effettuerà a Pesaro un intervento per la riparazione di un tratto di rete idrica con installazione di una nuova valvola. L'intervento comporterà la sospensione dell'erogazione di acqua potabile dalle ore 8 alle 12.30 in zona Torraccia. Nello specifico l'acqua mancherà in via Timavo, in via Gagarin nel tratto compreso fra via Timavo e l'incrocio con strada Montefeltro in strada Montefeltro fra via Pertini e via delle Betulle in via degli Abetti fra via Gagarin e via delle Betulle in strada dei Platani in via Pertini, in via Icaro e in strada Cassiani. Le immagini che vi mostriamo ora si riferiscono alla prima domenica di sfilate del Carnevale di Fano, tornato ieri nella sua formula completa dopo il biennio di limitazioni Covid. Più di 10.000 i biglietti staccati per la festa che ha visto sfilare maschere a piedi e sui carri, accompagnati dall'appassionato rituale del getto dei dolciumi. Fra i carri allegorici ci sono stati riferimenti alla narrativa fantastica steampunk, alla poesia da Dante Alighieri e Alda Merini e all'album The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd in occasione dei 50 anni della sua pubblicazione. Apprezzati anche i carri dedicati all'astronauta Samantha Cristoforetti e al centenario della musica arabita. Presente anche il presidente della regione Francesco Acquaroli che ha aperto la sfilata a piedi, mentre sul carro del Voulon ha salutato Fano Rossella Brescia, ospite della prima domenica assieme a Ciccio e Bazz di Tutti i Pazzi per RDS. Il nostro territorio scommette con sempre più convinzione sul cicloturismo. Lo conferma il nuovo progetto Tour dei Campioni che unirà Marche e Romagna in un'iniziativa che andiamo a scoprire in questo prossimo servizio. Due territori e un'unica passione. L'amore per le due ruote, che siano alimentate da un motore oppure no, distingue da sempre la lingua di terra che unisce al confine Marche ed Emilia-Romagna. Teoria confermata anche dal nuovo percorso cicloturistico per bike e mountain bike che va a legare ancora di più i paesaggi dell'entroterra e della costa tra le province di Pesaro Urbino e Rimini. Il Tour dei Campioni nelle terre dei grandi piloti è un tragitto che parte da Tavuglia e da Morciano di Romagna che attraversa poi Montescudo, Monte Colombo e Coriano e che termina Misano Adriatico e Gradara. Quello presentato a base Tavuglia, comune capofila dell'iniziativa, non è solo un progetto che sta al passo con i tempi ma anche la promozione di una bellezza paesaggistica sulle tracce di chi, grazie al loro talento nel motociclismo, ha arricchito di valore un territorio già unico. Abbiamo lanciato questa proposta che diventa una sfida perché non succede quasi mai che due territori, confine di provincia ma soprattutto di regione, si mettano insieme per fare un progetto come questo e la sfida è proprio questa, riuscire a dimostrare che si può fare. Vorremmo dare un servizio, una promozione del nostro territorio in un fazzoletto di terra che racchiude tantissimi valori soprattutto da un punto di vista dell'ambiente che ha creato dei grandi campioni sia nel ciclismo sia nel motociclismo perché poi anche i piloti vanno in bicicletta. Il tour dei campioni unisce in parte da Tavuglia, può arrivare a Coriano passando per tantissime altre strade coinvolgendo tanti territori, territori minori rispetto alle grandi città ma che hanno tanto da offrire. Due comuni delle Marche e quattro dell'Emilia Romagna. Se il percorso parte dalla terra che ha visto nascere e crescere Valentino Rossi il tour poi prosegue passando per il paese medievale di Paolo Francesca prima di affacciarsi sul territorio romagnolo. Il percorso di Gradara passa per il momento solo in una parte di Gradara che è praticamente quella collegata verso Tavuglia ed è un percorso sterrato molto bello con delle salite e delle discese. Prevediamo in futuro di ampliarlo, di coinvolgere anche altre parti di Gradara perché comunque Gradara è grande, alla fine è un territorio grosso come Riccione si può dire, quasi 18 km quadrati e ha tantissimo verde e tanti percorsi pedonali. Noi come amministrazione in questi anni abbiamo lavorato tanto per aprirli, per aprire nuovi percorsi, nuove strade che sono rimaste desuete nel corso del tempo e abbiamo lavorato proprio per aprirle e fornire nuove vie, nuovi percorsi. Un'iniziativa in grado di incentivare il turismo outdoor portando ancora più visitatori ad assaporare quella fetta di terra definita dai nativi come Marchignola. Una crasi che ingloba un ampio paesaggio immerso nel verde delle colline e nel blu del mare e che verrà promosso dai diversi comuni coinvolti attraverso un'app. Grazie alla nuova piattaforma ci si potrà far guidare in questo viaggio tra natura e gastronomia che gli datori del progetto hanno pensato di promuovere attraverso il racconto di Mauro Sanchini, ex pilota e attuale commentatore della MotoGP. Oggi vi consiglio di fare il tour dei campioni, un giro di una settantina di chilometri con un buon dislivello, bello anche per te in mountain bike perché ci sono dei percorsi da poter tagliare quindi se vuoi farmi una strada ci puoi vincere anche con le bike. Allora si parte da Tavuglia, ecco il tour dei campioni perché partiamo dal punto di Valentino Rossi, nove volte campione del mondo, leggenda del motorsport, personaggio mondiale. Per cui Tavuglia si va a Morciano, da Morciano c'è una bella salita verso Monte Colombo che noi utilizziamo nei motociclisti per allenarci. Da Monte Colombo, Monte Scuso si scende a Coriano, terra del Sici, c'è anche un museo molto bello da visitare se uno ci vuole fermare. Poi da Coriano andando in direzione Misano a metà c'è un ricordo per Nick Hayden, ex campione del mondo della MotoGP e si arriva a Misano Adriatico. Lì vi danno la possibilità addirittura di fare un giro dentro l'autodromo, che è una cosa spettacolare. E poi da Misano Adriatico si sale a Gradara. Non è terra dei cattioni a Gradara, ma noi ci andiamo a mangiare perché ci mangia molto bello. Da Gradara a Tavuglia, si dute in giro, due orette e mezzo, ve ne do tre massimo. Divertente. E come ogni lunedì concludiamo il nostro telegiornale con la nostra pagina sportiva fai con le belle notizie che arrivano dalla vittoria Libertas di Pesaro. Pulito lo scivolone di Sassari, vendicata la sconfitta dell'andata. Alla Vitri Frigo Arena, la VL ottiene una vittoria di sostanza, battendo 85-74 l'Una Hotel Serregge Emilia e dimostrando pronto riscatto dalla batosta in Sardegna, così come riprendendo una marcia che la mantiene al quarto posto salendo a quota 22 punti. Con il ritorno sul parquet di Capitano Delfino, la squadra di Repiccia parte subito forte prendendo il largo nel primo quarto, ma Reggio tiene e va all'intervallo con un equilibrato 39-36. Nel terzo quarto, Pesaro infila un break importante che la porta a più nove, ma gli avversari restano sul pezzo e tengono in bilico il match che la VL vince con una solida fase difensiva e con uno score in cui spiccano i 19 punti di Abdurrahman. Nel calcio continua la striscia positiva della Vispesaro che a Montevarchi inanella il quinto risultato utile consecutivo rimediando un prezioso 1-1 in casa del Sandonato Tavarnelle che consente di evitare il sorpasso dei Toscani, tenerli due punti dietro e guadagnarsi il vantaggio negli scontri diretti. Il Sandonato passa dopo appena due minuti e mezzo di partita con Marzierli all'interno di un primo tempo di Vis sottotono. Vische gioca invece una bella ripresa e raccoglie il pari al 61esimo con un colpo di testa di Di Paola servito da Valdifiori sugli sviluppi di calcio d'angolo. In Seredi invece il Fanno si impone 2-0 al Mancini contro il Porto d'Ascoli grazie alle reti di Broso e Zanni in apertura e chiusura di gara. Sconfitta testa alta per l'Ital Service che fra mille problemi d'organico cade 5-2 in casa del Napoli, leader della classifica, aggredendo il match di Aversa che vede Pesaro due volte in vantaggio. Prima con Murillo Schiochette raggiunto poi dal 1-1 dall'ex Borruto. Ital Service di nuovo avanti con Pires e di nuovo raggiunta da Borruto per il 2-2 con cui si chiude il primo tempo. Nella ripresa Napoli fa valere la sua forza passando in vantaggio e gonfiando il punteggio sul 5-2 finale costruito sulla forza degli ex. Alla fine sarà tripletta per Borruto e doppietta per Mateus. Napoli sempre più primo, Ital Service di nuovo nei play-out ma con l'atteggiamento giusto per allontanarci sin fretta. Gioia nel volley per la Megabox Vallefoglia che a Urbino ha ragione di Pinerolo in 4-7 per il 3-1 finale. E allora davvero complimenti alla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro ma restate collegate su Rossini TV perché subito dopo la replica di questo telegiornale ed esattamente alle 21.20 andrà in onda una nuova puntata di Check Up Obiettivo Salute. Questa sera parliamo di alimentazione e movimento e lo facciamo con il dottore Andrea Buccarini, nutrizionista. E poi alle 21.40 subito dopo vi mostreremo quella che è stata una domenica bellissima sulle nostre montagne in modo particolare abbiamo realizzato questo servizio nel Monte Catria e chiaramente questa sera potrete vedere tutte le informazioni per poter accedere appunto all'impianto scistico. E poi domani torna la nostra rassegna stampa quindi vi aspettiamo come sempre alle 7.20 e ci sarò io con voi in diretta sia sul canale 80 che sulla nostra pagina Facebook. Adesso vediamo come sarà il tempo per i prossimi giorni infatti c'è il meteo io vi auguro buona serata e ci rivediamo domani mattina. Grazie.